Io da ragazzo ho frequentato molto il mio quartiere, c'erano le botteghe del calzolaio Alfredo, dell'accordatore del pianoforti Cesare, c'era il bar, il bar Mariani, c'era il vetraio, l'elettrauto. Io andavo sempre a trovare tutti quanti, ma il comune denominatore di questi miei incontri erano veramente o la fama o il sesso. Entravo da Cesare, l'accordatore, ieri si è ripresentata per la terza volta una signora che vuoi comprare un pianoforte, una maestra, ho capito che gli piaceva. La quarta volta, siccome avevo mangiato la foglia, ho tirato giù la seranda, ho buttato sul pianoforte a coda e gli ho dato dentro. Quindi già era un racconto. Andavo dall'elettrauto, ma ti pare che ora mi porta a 505 volte, ma la candela non accende bene la cosa. La quinta volta ho detto, cos'è che c'è? Ho abbassato la seranda, tutto uguale. Abbassato la seranda, ho buttato sul cofano, io sono montato a Carlo. Andavo dal calzolaio. Alfredo, perché lui aveva un acqua che veniva direttamente da, era un acquedotto che veniva direttamente dall'Abruzzo, non ho capito, era una canna, gli usciva a fare un'acqua meravigliosa, quindi mi fermava bene. Però lui a quell'ora mangiava sempre con 6-7 persone e lo trovavo sempre. Vuoi farlo lì? Metto su. Quindi, o il magnà o il sesso. Se parlava solo di sesso. Quindi, ecco che ci tornano abbastanza quei personaggi il gasman del sorpasso, un pazzo, un infantile che parte, esce giusto per camminare con la macchina e poi finirà drammaticamente e quella è stata la grande intuizione di Risi. Però, quei personaggi là c'erano, era un momento di grande euforia, sordi, il seduttore, lo scapolo, il sordi dello sceicco bianco e il sordi dei videlloni, perché come sordi fu compreso in tutto il suo potenziale di miseria italiana, come l'ha capito Fellino, l'ha capito nessuno. Secondo me, tutta la storia di sordi è, secondo me, è tra lo sceicco bianco e i videlloni di Fellini. Anche se sordi non amava molto Fellini, questo me lo disse a me, diceva che era l'imbrogione, questo mi faceva molto arrabbiare perché io lo adoravo. Però gli dicevo, guarda che però lui ha, no, non è vero niente, l'imbrogione, tu devi andare a vedere il fumo di Londra, cioè lui parteggiava sempre per i film che aveva fatto come regista, invece ne aveva fatti tanti, una vita difficile, tutti a casa, insomma, dei film. Quindi, che cosa succede? Succede esattamente questo, che a un certo punto, questa euforia, che però, attraverso dei film che però mettevano in risalto già dei difetti, c'erano delle critiche di costume, i mostri di Risi, era un film importantissimo, un padre che insegna al figlio a essere furbo, a rubare, insomma, il tema della fame anche là, il tema della fame anche nei soliti ignoti, insomma, alla fine che cosa succede? Che questo momento di euforia cessa, cessa improvvisamente, per quale motivo? Cessa perché i tempi vanno a cambiare, il 68, con i modi del 68 studenteschi, l'avvento del femminismo, mettono una tomba, una pietra tombale, su tutta quell'euforia, secondo me, anni 60, che abbiamo visto in tanti film, quello di Germi, che fu, avevo una piccola parentesi, l'autore più importante, perché già in quegli anni fece una denuncia dal punto di vista del costume importantissima, cioè descrisse una borghesia del Veneto considerata la regione più cattolica d'Italia e la dipinse come la regione più immorale d'Italia attraverso quel film. E quel film, oltre ad essere uno splendido film, è un film pieno di significati dove appunto c'è questa critica. Allora, che cosa succede? Termina questa euforia, termina questo macismo anni 60, termina... e improvvisamente i modi del 68 fanno nascere, attraverso il femminismo, una nuova figura di donna. Quindi la donna non più come oggetto, la donna non più come oggetto di conquista, l'uomo non più come rimorchiatore che prende parte, va in Svezia, no, assistiamo invece a una depressione improvvisa della figura maschile. L'uomo viene messo all'angolo e praticamente prende dei pugni da una donna che è sicuramente molto più forte di lui, ma molto di più, affascinante nella sua lunaticità, più colta ed entra in crisi. A quel punto entriamo noi, entriamo noi come nuova generazione, ma ci troviamo un po' le ceneri di quegli attori che avevano in qualche modo terminato, anche da un punto di vista di età, anche perché la loro funzione, ma il mondo era cambiato. Allora noi capimmo che l'unico modo per andare avanti era quello di raccontare le cose come stavano, cioè di raccontare la debolezza del maschio nei confronti della donna. Quindi un maschio non più macchio, interapprendente, pirotecnico, ma un macchio imbambolato, vittima assolutamente di figure femminili come la tua donna, come la mamma, come la nonna, come delle donne. Ecco quindi che nasce un sacco bello. Io è chiaro che questa scheletta, mi vogliate perdonare, la devo un po' fare un po' sul percorso dei miei film, questo non vuole essere un'autocelebrazione, per carità. Ci sono film che mi sono riusciti bene, dei film che mi sono riusciti meno bene. Non voglio stare qua a dire ho fatto le cose, siete voi a decidere il film che ha più dato significato. Però mi devo un attimo seguire questa scaletta dei miei film perché se no mi perdo, se no ci voleva Bauman per parlare di questo argomento così complicato. Ecco in un sacco bello che secondo me, io credo che sia un film abbastanza importante di rottura, che però segue una tradizione perché io ho sempre avuto un grande rispetto per i maestri della commedia italiana, Age, Scarpelli, tutti, Germi, il primo Fellini. Un sacco bello però è il trionfo della solitudine di tre personaggi. Il bullo prende e parte, deve fare un viaggio in Polonia, ma non è il viaggio pirotecnico, folle che fa Gasman nel sorpasso, dove si diverte e rimorchia anche un ragazzo, uno studente così, poi purtroppo lo porta alla morte per la cosa. Però è un viaggio che parte già col divertimento. No, questo non riesce mai a partire perché è solo. E ebbe una grande intuizione che secondo me io per sottolineare proprio la solitudine del personaggio dovevo in qualche modo presentarlo attraverso una vestizione. Per me la vestizione del bullo e la sua agendina telefonica dovevano essere assolutamente la vasta radiografica di quel personaggio che era lontano anni luce dall'effervescenza dei Gasman, dei Sordi, dei Tognazi e compagnia bella. Lo faccio vestire davanti a uno specchio, gli faccio mettere un batuffolo dovatta così nei pantaloni per fargli accrescere gli attributi, si prova mille catene, degli occhiali si guarda, alla fine si piace, poi alla fine però questo viaggio non riuscirà mai a farlo. Mai a farlo. questo personaggio però come nasce questo Enzo di un sacco bello? Si nasce dalla considerazione di una debolezza maschile però nasce anche tutto quanto come tutto il mio cinema da esperienze personali che io ho fatto perché tutto quello che io ho fatto, ho visto, ho ascoltato, io a modo mio diciamo così un po' rimescolandolo, l'ho poi rappresentato attraverso dei dettagli miei però l'esempio è sempre stato un qualcosa di vero. Io feci in realtà, non mi vergogno a dirlo anche se ci sarebbe da vergognarsi, io feci un viaggio in Polonia veramente, io lo feci ma benedetto il giorno che l'ho fatto quel viaggio in Polonia perché se no avessi fatto quel viaggio in Polonia io quel personaggio non l'avrei potuto descrivere. Partimmo io e due amici direzione a Cracovia, esattamente come era nel film, partimmo con la 127 e partimmo con le calze di seda perché all'epoca erano paesi comunisti quindi portavi le penne a piro, le calze di seda, portavi i quattro fregnacci, erano tutti contenti. Allora partimmo subito fummo bloccati nella Germania Est in una città che si chiama Ghera perché mio apro questa parentesi perché può essere divertente e poi porterà anche a comprendere qualcosa. Ci fermano subito le guardie della Germania dell'Est perché trovano una mia agendina telefonica dove mio padre ci teneva tantissimo che consegnassi un suo libro sul futurismo a uno scrittore polacco e mai ha scritto il nome dello scrittore polacco nell'agendina con l'indirizzo e tutto. A esse mai fatto. Quando questi ci vengono poi in Germania dell'Est a Ghera mi guardano tutto, ci smontano le ruote e vedono sta agendina e trovano il nome polacco due ore a posto di polizia per spiegare che è uno scrittore, che è una cosa eccetera. Due giorni fermi in albergo poi alla fine ci fanno andare e arriviamo a Cracovia. La vedo un'immagine miserabile dell'Italia, non un'immagine miserabile della Polonia, un'immagine di un'italianità veramente terribile, dei personaggi che solo a Cracovia in quel periodo potevi trovare. Vedevo delle Dino Ferrari nere e la metterò poi nel film un sacco bello, Targate Viterbo, con dentro dei personaggi veramente da vergognazza. E' una cosa, dico Dio mio, la cosa era ma che immagine diamo noi, ma che pensano che gli italiani sono qui. In realtà era un disastro. Noi eravamo lì, eravamo contenti, ci veniva pure da ridere, io prendevo chiaramente appunti perché io poi volevo rifarli, quei personaggi, figure. Mi ricorderò sempre che è arrivato davanti all'ostello della gioventù dove alloggiamo a un certo punto che era piena di macchine italiane, Targate Forlì, Targate Viterbo, Targate Treviso, Targate Latina. A un certo punto arrivano a 500 con due marmitte, Abarth e un uomo, secondo me ci avrà avuto tra i 50 e i 60 anni, cioè quei capelli tinti, lunghi, quindi capellone, questo viaggio fu fatto nel 73, capellone che ci dice, ragazzo ma qua si frega. E noi dice siamo arrivati adesso, dico la cosa, mi hanno detto che in questo ostello c'è sta roba buona, calzate se da quando ne avete portate. Allora io mi dico no, non ne abbiamo portate, in realtà ne abbiamo portate. Ma allora mi sa capire, chi è chiappato e poco, aspettate perché voglio salire con voi. Posteggia la 500 e chi esce? Esce il signore di Enna, un signore tra i 50 e i 60 anni, con i capelli lunghi, tinti, esce così. Stami a milcare di Gela, con la macchina targata però Enna, cioè solo la la poteva rimorchiare, ma non è, adesso non è per il poveraccio perché era claudicante, ma perché era un mostro, non è possibile. Ma più che il fatto che era claudicante, erano i capelli, ma una cosa così, tinti proprio color lucido da scarpe, ma chi ce l'ha? Eppure rimorchiò, chissà rimorchiò e rimorchiò anche bene, tant'è che noi rimanemmo così. Quindi questo viaggio mi fece venire l'idea che poteva essere un episodio di un sacco bello, perché rappresentava in qualche modo la solitudine ormai di un italiano che non è più quello degli anni 60 del boom, ma è un italiano che comincia ad essere un maschio, che comincia ad essere un po' sbalestrato. E l'idea dell'ovatta io la ripresi quando in uno degli ultimi concerti del Piper Club, quando si esibivano i gruppi rock, a un certo punto un noto cantante, non dirò il nome, questo già lo raccontarono, un noto cantante, non dirò il nome, si presentò la cosa col suo gruppo, a un certo punto nel fare la cosa cantava così, era un bel ragazzo, davanti c'è una cosa veramente spaventosa, rimanemmo tutti quanti così, ci guardammo, dico vabbè andammo se ne via noi, era veramente oltre che super dotato, io rimanemmo e le ragazze erano, stavano tutte là, noi ci ritirammo molto bastonati, dicono andammo, mamma mia, chi diceva beato lui, chi diceva per me è finto, per me diceva per me è nostro, scusi, per me è una cosa. Alla fine un mio amico conosceva il batterista di questo gruppo, allora andammo nel camerino, io lo accompagnai perché volevo salutare il batterista, quando andai a salutare il batterista, vi dì una cosa tragica, io ve lo giuro, non sto raccontando una stupidaggia, io ho sempre detto la verità e raccontato la verità, nel momento che entriamo nel camerino vediamo questo, il cantante che si tira giù i pantaloni e tira fuori una bottiglia di quelle vecchie bottiglie di gazzosa Atala, che si era messa davanti, guardandoci ci fece, però io dissi, però è uno stronzo, e lui mi disse ammazza, quindi queste mitomanie, queste megalomanie, questi azzardi, queste pazzie, io le ho messe in quel film, proprio per raccontare una miseria, per raccontare alla fine il comune denominatore è la solitudine.